è arrivato un pareggio è arrivato il tuo esordio il tuo primo gol in questa stagione sono molto contento perché mi sono aiutato a scadra questo importante prima partita prima gol sono contento sei contento per una gara che è stata strana prima sotto poi avanti poi l'abbiamo recuperata che partita hai visto prima un silvestre come se come posso dire peccato sfortunato poi ho fatto gol 1 1 complementa lui anche arriverà un figlio forse e poi 2 1 2 1 2 2 poi come posso dire fatto col 3 3 parigi abbiamo preso un punto importante fuori casa questa partita difficilissimo anche loro hanno un punto prima anche loro devono vincere come noi secondo me abbiamo preso un punto ma bene partiamo dal dal gol che ha riaperto la partita e aveva forse indirizzato la gara verso un'altra sfida sì un gol importante per me anche per la squadra no oggi era una partita molto difficile per noi è importante questo questo punto un punto importante che ci portiamo a casa era fondamentale muovere la classifica se ne arrivavano tre era meglio banale a dirsi però a questo è un buon punto per ripartire se è importante da non abbiamo perso perché dobbiamo cominciare trovare punti no è così sicuramente un punto importante sabato arriva la juve sulla carta una partita impossibile ma forse ancora più bella da giocare se sarà una partita molto difficile perché loro sono una grande squadra però noi dobbiamo preparare bene vediamo